Invita alla riflessione l'ultimo appuntamento di Voci di Donna organizzato dalla cooperativa Teatrio Musica e fissato per stasera alle 21 al Teatro Verdi. Sul palco Elena Arvigo, autrice e interprete dello spettacolo La Metafisica della Bellezza, lettere dalle case chiuse, donne schiave, tra cui tante madri, costrette dalla miseria e dal bisogno a prostituirsi. Le lettere inviate dalla senatrice Angela Merlin, autrice della legge del 1958, che chiuse le cosiddette case di tolleranza, raccontavano lo stato in cui quelle donne erano costrette a vivere. Le emissive inviate alla Merlin erano state raccolte dalla stessa senatrice e da Carla Barberis, moglie di Sandro Pertini, e la loro autenticità è garantita dagli originali, oggi depositati presso un notaio. Chi legge quelle lettere capisce che mai e poi mai una donna farebbe quella vita per scelta. Lo spettacolo nasce dal desiderio di informare, risalire alle fonti di una discussione, su cui c'è ancora tanta ignoranza. Alcune prostitute erano costrette a ricevere 60 clienti al giorno e raramente potevano uscire dal bordello, che di fatto era una prigione. Inoltre, il 90% delle prigioniere era malatta di sifilide. Sono lettere a volte drammatiche, a volte commoventi, di ringraziamento per questa iniziativa che ha avuto un travaglio difficile, perché né al Senato né al Parlamento era facile farla passare. Si rischiava, insomma, quello che è un pochino il dramma della prostituzione. Queste donne che scrivevano ringraziando questa senatrice che con coraggio ha affrontato anche all'interno del suo partito le difficoltà di farla passare.